Prima conferenza di sistema Confcommercio Sicilia si terrà oggi e venerdì a Villa Favorita a Marsala nel Trapanese. Due giorni di confronto sulle prospettive per il futuro segnato da due anni di pandemia e la guerra in Ucraina. La prima parte dei lavori, chiarisce il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti, è riservata a direttori e dipendenti delle sedi provinciali di Confcommercio. Il tema non può essere se non quello legato agli scenari post-pandemici. Dovremmo capire in che modo muoverci per essere protagonisti del futuro. Venerdì mattina, invece, sempre a Marsala, ci confronteremo con alcuni rappresentanti del governo regionale, mentre la relazione degli esperti, dice ancora Manenti, ci consentirà di cristallizzare l'attuale situazione dal punto di vista economico e quale dovrà essere la base di partenza per le performance che saremo chiamati ad attuare. Un incontro, dunque, di tutti i commercianti della Sicilia che dovranno fare naturalmente sinergia per riuscire a superare questo momento di grave crisi che attanaglia le attività commerciali dell'intera isola.